Una cosa vi volevo dire che, siccome questi qua lo sapete più meglio di me che sono scassi, cercate di rompere i fenomeni, capito, che spiate le palle e ve ne andate per tutto il campo. Almeno cercate di giocare la palla. No, come va, perché dopo andiamo con Ripa e ci diamo le secce. Uno, due, tre! Cos'è il freddo?